La produzione cerca il testimonial di un rivoluzionario prodotto omeopatico australiano che ha il potere di fermare gli stimoli intestinali. Per promuovere questo ritrovato elaborato dagli sciamani aborigeni, la vittima sarà vestita da canguro afflitto da forti dolori di pancia. Ma grazie a Cagunò potrà ricominciare a saltellare allegramente. Eccolo, eccolo, guarda com'è sconfitto dell'esistenza. Assomiglia a Scamarcio, gliel'hanno già detto? Assomiglia a Scamarcio, gliel'ha detto? C'è del biondismo qua. Oh, sento il rumore di tà. Dicono che le bionde... Ho iniziato un percorso cinematografico. Ah, iniziato dalle sopraccine. Pensavo di disintossicazione, se devo essere sincero. Tu sapresti interpretare il fermaporta? Tu riceveste a fare il tipo il fermaporta? Ehm... Hai presente? Dunque, quello che ferma le porte, no? E dunque potrei fermarlo col petto? Ok. Mi sa che sono molto prosperosa. Se sei una pluna tettona, non è che ce lo devi dire per forza. Oppure spingendo la parte dietro. O così. Ragazzi, mettete un divano e facciamo un casting couch. Perché ha il vizio di trasformare tutto in un porno. Guarda come fa le cose. Fai le cose in maniera molto sensuale. Questo è molto bello, perché ammorbidisci molto... Non mi ricordo, io sono proprio così. Ah, sì, sì. Lei è proprio sensuale. Lei ha la ghiandola della sensualità. Ce l'ha qua. Lei ha mai sofferto di problemi intestinali? Lei ha mai sofferto di problemi intestinali? No. Mai. Mangia sassi e digerisce noci, lui. Allora, io adesso avrei bisogno, intanto, se mi può, saltellare fino alla riga opposta. Come se fosse un canguro. Ti ricordi Obladi Oblada? Però in questo caso è Cagù sì, Cagù no, tutto a posto, corri e prendi Cagù no. Cagù sì, Cagù no, Cagù corri, prendi Cagù, Cagù sì. No, è Cagù no. È Cagù no. Saltellando dovrebbe dirmi Cagù no per saltellare senza fare la popò. Se me lo fa saltellando... Ti sposta tutto. Cagù no, per saltellare senza la popò. Cagù sì, Cagù no, Cagù, Cagù. Badly. No, Cagù, Cagù no. È per il solo entusiasta della vita. È felice di cagare. Cagù no, per saltellare senza la popò. Partiamo. Ora stai soffrendo? Io parto. Il cangurotto che si coglu ha tanto mal di pancia, ma improvvisamente intravede la soluzione. Oh, la linguazza ha fatto anche. Ma perché tutto diventa un pozzo? Ma ci sono degli adolescenti che stanno guardando. Cagù no, per saltellare senza fare la popò. È disperata. Adesso per chiudere tiriamo lo sciacquone e andiamo via. Simula di tirare lo sciacquone e fatti risucchiare. Questo è il cesso col motore a scopro. Quanto cagliamo? Cagliamo tutti qua. Che perfetto. E liberiamoci, dai! Copriamo il mondo di età. Copriamo il mondo di età. Copriamo il mondo. Copriamo il mondo del mondo. Copriamo il mondo. Copriamo il mondo. Grazie a tutti.